Sono 100 dipendenti di città metropolitana insieme a consiglieri e consigliere, tutti e tutte con la maglietta rosa shocking personalizzata, pronti a partecipare domenica pomeriggio 3 marzo a Turino alla nuova edizione di Just the Woman I Am. La consegna dei pettorali è stata l'occasione per rinnovare lo spirito di appartenenza all'ente per il quale ogni giorno si lavora e nello stesso tempo per dare un segnale di impegno e testimonianza alla lotta contro il cancro. Per l'edizione 2024 della manifestazione la città metropolitana di Turino ha voluto dare un segnale di presenza istituzionale con l'acquisto dei pettorali consegnati ai e alle dipendenti, in maggioranza donne, alcune storiche del nostro lavoro, altre neoassunte e giovanissime, tutte ugualmente pronte a testimoniare l'impegno per la prevenzione del male del secolo. La nuova edizione della Just the Woman I Am ha registrato quest'anno grande interesse anche fuori dal capoluogo. Moltissimi comuni che hanno aderito e che nel fine settimana realizzano appuntamenti della corsa a scopo benefico. Anche se le condizioni del meteo sono sfavorevoli, domenica 3 marzo a Turino si corre.